Viene a trovarci una vecchia amica stecchita. Il mattino seguente, dopo colazione, raccontai a Grover il mio sogno. Eravamo seduti nel prato a guardare i satiri che rincorrevano le ninfe del bosco nella neve. Le ninfe avevano promesso loro un bacio nel caso fossero riusciti ad acchiapparle, ma non succedeva quasi mai. Aspettavano che i satiri prendessero la rincorsa e si lanciassero e poi si trasformavano in alberi innevati. I poveretti ci sbattevano la testa contro e rimediavano solo una bella doccia di neve. Mentre gli raccontavo il mio incubo, Grover cominciò a rigirarsi un ciuffo di pelliccia caprina con il dito. Le è crollato addosso il soffitto di una caverna, eh? chiese. Sì, che accidenti significa? Grover scosse la testa. Non lo so, ma dopo quello che ha sognato Zoe... Ehi, che vuoi dire? Zoe ha fatto lo stesso sogno? Io non... non lo so di preciso. Alle tre del mattino è andata alla casa grande e ha chiesto di parlare con Chirone. Sembrava nel panico. Aspetta, e tu come fai a saperlo? Grover arrossì. Io ero... accampato davanti alla casa di Artemide. Ma perché? Solo per... ecco... stare vicino alle ragazze. Sei un maniaco con gli zoccoli. Non è vero? Comunque, l'ho seguita fino alla casa grande e mi sono nascosto in un cespuglio a guardare. Si è arrabbiata parecchio quando Argo non voleva lasciarla entrare. È stata una scena un po' impressionante. Cercai di immaginarmela. Argo era il capo della sicurezza del campo, un ragazzone biondo con gli occhi sparsi su tutto il corpo. Si mostrava di rado, a meno che non ci fosse qualcosa di davvero grave in corso. In un duello fra lui e Zoe Nightshade non avrei saputo su chi scommettere. Lei che ha detto? Chiesi. Grover fece una smorfia. Beh, Zoe comincia a parlare molto all'antica quando si arrabbia, perciò era un po' difficile da capire. Ma era qualcosa su Artemide che si trova nei guai e che ha bisogno delle cacciatrici. E poi ha chiamato Argo Tanghero. Credo che sia un'offesa. E lui l'ha chiamata. Cavolo, aspetta! Com'è possibile che Artemide sia nei guai? Io... Beh, alla fine Chirone è uscito con il pigiama e i bigodini sulla coda e... Si mette i bigodini sulla coda? Grover si tappò la bocca con la mano. Come non detto, lo rassicurai. Continua. Zoe gli ha chiesto il permesso di lasciare subito il campo. Chirone ha rifiutato. Le ha ricordato che le cacciatrici dovevano restare qui fino a nuovi ordini di Artemide. E lei ha replicato... Grover deglutì. Come facciamo a ricevere ordini di Artemide se lei è perduta? In che senso? Ha smarrito la strada? No, credo che intendesse dire che non si trova più. Presa. Rapita. Rapita. Cercai di afferrare bene il concetto. Come si fa a rapire una dea immortale? È possibile? Sì. Cioè, a Persephone è successo. Ma lei era solo... cosa? La dea dei fiori? Grover fece una faccia offesa. Della primavera? È uguale. Artemide è molto più potente. Chi potrebbe rapirla? E perché? Grover scosse la testa, affranto. Non lo so. Crono? Non può essere già così potente. O sì? L'ultima volta che lo avevamo visto, Crono era ridotto a pezzettini. Beh, non è che lo avessimo proprio visto. Migliaia di anni prima, dopo la grande guerra fra i titani e gli dei, questi ultimi lo avevano fatto a pezzi con la sua stessa falce e avevano sparso i resti nel tartaro, che è come il bidone senza fondo in cui gli dei riciclano i loro nemici. Due estati prima, Crono ci aveva attirati con l'inganno fino al bordo stesso del baratro e per poco non ci aveva trascinati dentro. Poi quell'estate, sulla nave demoniaca di Luke, avevamo visto un sarcofago d'oro. Luke aveva dichiarato che stava rievocando il re dei titani e che ogni volta che qualcuno si univa alla loro causa, quello si ricomponeva pezzo dopo pezzo. Crono poteva influenzare e ingannare le persone attraverso i sogni, ma non riuscivo a capire come potesse battere fisicamente Artemide, visto che era ancora soltanto un malvagio mucchio di letame. Non lo so, rispose Grover, penso che se Crono si fosse ricostituito qualcuno lo saprebbe. Gli dei sarebbero più nervosi, però è strano che tu e Zoe abbiate avuto un incubo la stessa notte. Sembra quasi che... siano collegati, conclusi io. Poco lontano, nel prato gelato, un satiro inseguiva una ninfa dai capelli rossi pattinando sugli zoccoli. Lei rise e spalancò le braccia come per accoglierlo. Poi... pop! Si trasformò in un pino e il satiro baciò un tronco alla velocità della luce. Ah, l'amore! esclamò Grover in tono sognante. Io riflettevo sull'incubo che Zoe aveva avuto a poche ore di distanza dal mio. Devo parlare con lei, conclusi. Ehm, prima di farlo, Grover si sfilò qualcosa dalla tasca del giaccone. Era un pieghevole attreante, come una brochure di viaggio. Ti ricordi quando hai detto che era strano che le cacciatrici fossero comparse proprio a Westover Hall? Credo che ci stessero seguendo alla ricerca di nuove... reclute. Come? Che vuoi dire? Mi passò la brochure. Parlava delle cacciatrici e di Artemide. Davanti c'era scritto una scelta saggia per il tuo futuro e dentro c'erano immagini di fanciulle che cacciavano, inseguivano mostri, tiravano con l'arco. I titoli annunciavano i vantaggi per la salute, l'immortalità e cosa significa per te e un futuro senza maschi. L'ho trovato nello zaino di Annabeth, spiegò Grover. Lo fissai. Non capisco. Beh, a me sembra che forse Annabeth stesse pensando di unirsi a loro. Mi piacerebbe dire che presi bene la notizia. La verità è che avrei voluto strangolare le cacciatrici di Artemide, una fanciulla immortale dopo l'altra. Cercai di tenermi occupato per il resto della giornata, ma ero angosciato da morire per Annabeth. Andai a lezione di giavellotto. La teneva un tipo della casa di Ares, che mi diede una bella strigliata, dopo che per sbaglio avevo lanciato senza aspettare che lui si scansasse. Mi scusai per il buco nei pantaloni, ma mi buttò fuori lo stesso. Feci un salto alla stalla dei Pegasi, ma Silena Boregar della casa di Afrodite stava litigando con una cacciatrice e decisi che fosse meglio non immischiarsi. Dopodiché mi sedetti sulle gradinate della pista delle bighe, con la faccia scura. Giù al tiro con l'arco, Chirone conduceva gli allenamenti. Sapevo che era lui la persona giusta con cui parlare. Forse avrebbe saputo darmi un consiglio, ma qualcosa mi trattenne. Avevo la sensazione che avrebbe cercato di proteggermi, come sempre, e forse non mi avrebbe detto tutto quello che sapeva. Guardai dall'altra parte. In cima alla collina Mezzosangue, il signor D e Argo stavano dando da mangiare al cucciolo di drago che faceva la guardia al vello d'oro. Poi ci arrivai. Significava che nella casa grande non c'era nessuno. C'era qualcun altro. Qualcosa altro a cui potevo rivolgermi. Corsi alla casa grande, entrai e imboccai le scale con il sangue che mi ronzava nelle orecchie. L'avevo fatto solo una volta prima di allora e avevo ancora gli incubi al ricordo. Apri la botola e salì in soffitta. La stanza era buia, polverosa e ingombra di ciarpame proprio come la ricordavo. C'erano scudi addentati da mostri, spade piegate a forma di testa di demone e qualche creatura imbalsamata, tipo un'arpia e un pitone arancione. In fondo, seduta su un treppiede vicino alla finestra, c'era la mummia ragrinzita di una vecchietta con un vestito da hippie colorato. L'oracolo. Mi costrinsi ad avvicinarmi. Mi aspettavo che dalla bocca della mummia fuoriuscisse del vapore verde, ma non successe nulla. Salve, dissi. Tutto bene? Feci una smorfia. Che domanda stupida. Quante cose potevano andarti bene se eri morta e chiusa in una soffitta? Ma sapevo che lo spirito dell'oracolo era lì da qualche parte. Percepivo una presenza gelida nella stanza, come un serpente addormentato, attorcigliato su se stesso. Ho una domanda, continuai un po' più forte. Ho bisogno di sapere di Annabeth. Come posso salvarla? Nessuna risposta. Il sole penetrava di sbieco dalla finestra sudicia, illuminando il pulviscolo che danzava nell'aria. Aspettai ancora. Poi mi arrabbiai. Stavo subendo l'ostruzionismo di un cadavere. E va bene, sbottai. Benissimo. Lo scoprirò da solo. Mi voltai e inciampai in un grosso tavolo pieno di souvenir. Sembrava più ingombro rispetto all'ultima volta. Gli eroi conservavano in soffitta ogni genere di cose. Trofei di imprese che non volevano più tenere nelle capanne o roba che suscitava ricordi dolorosi. Sapevo che lì da qualche parte Luke aveva riposto un artiglio di drago, quello che gli aveva procurato la cicatrice. C'era l'elsa di una spada spezzata con l'etichetta «Questa si ruppe» e Leroy rimase ucciso. 1999. Poi notai un fular di seta rosa con un cartellino. Lo raccolsi e cercai di leggere «Fular della dea Afrodite, rinvenuto a Waterland, Denver, Colorado» da Annabeth Chase e Percy Jackson. Fissai il fular. L'avevo completamente dimenticato. Due anni prima Annabeth me lo aveva strappato di mano dicendo qualcosa tipo «Oh no! Stai alla larga dalla magia dell'amore!» Pensavo che l'avesse buttato. E invece eccolo lì. L'aveva tenuto lei per tutto questo tempo? E poi perché l'aveva nascosto in soffitta? Mi voltai a guardare la mummia. Non si era mossa, ma le ombre sembravano dipingerle un sorriso raccapricciante sul volto. Lasciai cadere il fular e mi sforzai di non correre verso l'uscita. Quella sera, dopo cena, ero seriamente intenzionato a battere le fanciulle di Artemide a caccia alla bandiera. Sarebbe stato un piccolo incontro. C'erano solo tredici cacciatrici, inclusa Bianca di Angelo e più o meno lo stesso numero di ragazzi del campo. Zoe Nightshade sembrava parecchio turbata. Continuava a lanciare occhiate risentite a Chirone, come se non riuscisse a credere che le stesse chiedendo di fare questo. neanche le altre cacciatrici sembravano molto contente. A differenza della sera prima, non ridevano né scherzavano. Se ne stavano raccolte in un capannello sotto il padiglione della mensa, a bisbigliare e a indossare le armature. Alcune sembravano perfino aver pianto. Probabilmente Zoe aveva detto loro dell'incubo. Nella nostra squadra c'erano Beckendorf e altri due ragazzi di Efesto, un gruppetto della casa di Ares e comunque l'assenza di Clarisse mi sembrava ancora stranissima, i fratelli Stoll e Nico per la casa di Hermes e qualcuno delle file di Afrodite. Era insolito che i figli della dea dell'amore avessero voglia di giocare. Normalmente se ne stavano seduti in panchina oppure chiacchieravano, si contemplavano nel riflesso del fiume o roba del genere, ma quando avevano saputo che la sfida era contro le cacciatrici, erano stati impazienti di partecipare. Glielo faccio vedere io se l'amore non conta niente, borbottava Silena Boregar allacciandosi l'armatura. Giuro che le distruggo! E poi c'eravamo io e Talia. Io vado in attacco, propose lei. Tu stai in difesa. Oh! Esitai, perché stavo per dire esattamente la stessa cosa. Al contrario. Non pensi che con il tuo scudo staresti meglio in difesa? Talia aveva già legida al braccio e perfino quelli della nostra squadra si tenevano alla larga, tentando di non trovarsi davanti alla testa di bronzo di medusa. Beh, pensavo che fosse più utile in attacco, replicò lei. E poi tu hai maggiore esperienza in difesa. Forse mi stava prendendo in giro, non lo so. Avevo avuto delle esperienze piuttosto brutte giocando in difesa a caccia alla bandiera. Il mio primo anno Annabeth mi aveva usato come esca e per poco non ci rimanevo secco, infilzato dalle lance o sbranato da un segugio infernale. Sì, nessun problema, mentì. Fantastico. Talia si voltò per aiutare un paio delle ragazze diafrodite che avevano qualche problema a infilarsi l'armatura senza spezzarsi le unghie. Nico di Angelo mi corse incontro con un grande sorriso stampato in faccia. Percy, che forza! L'elmo di bronzo con il pennacchio azzurro gli cadeva davanti agli occhi e il pettorale dell'armatura era di almeno sei taglie più grande. Mi chiesi se anch'io avessi quell'aria comica quando ero arrivato. Probabilmente sì, purtroppo. Nico sollevò la spada con un certo sforzo. Dobbiamo uccidere le avversarie? Beh, no, ma le cacciatrici sono immortali, giusto? Solo se non cadono in battaglia. E poi, pensa che forte se potessimo resuscitare non appena ammazzati in battaglia. Potremmo continuare a combattere e... Nico, questa è una cosa seria. Le spade sono vere. Possono fare male. Mi fissò un po' deluso e mi resi conto di avere appena parlato come mia madre. Cavolo, non era un buon segno. Gli diedi qualche pacca sulla spalla. Ehi, hai ragione tu, è proprio una forza. L'importante è che segui la squadra. Sta alla larga da Zoe. Ci divertiremo un mondo. Lo zoccolo di Chirone tuonò sul pavimento del padiglione. Eroi, chiamò. Conoscete le regole. Il ruscello è il confine. La squadra azzurra, il campo mezzo sangue, prenderà il bosco occidentale. Le cacciatrici di Artemide, la squadra rossa, prenderanno quello orientale. Io fungerò da arbitro e da medico di campo. Niente ferite intenzionali, per favore. Tutti gli oggetti magici sono permessi. Imposizione! Che storia! Bisbigliò Nico al mio fianco. Che genere di oggetti magici? Ne daranno uno anche a me? Stavo per infrangere le sue speranze, quando Taglia ordinò. Squadra azzurra! Seguitemi! Gli altri ubbidirono, esultando. Io dovetti correre per raggiungerli e inciampai nello scudo di qualcuno. Non avevo affatto l'aria di uno che divideva il comando. Sembravo più... un idiota. Piantammo la nostra bandiera in cima al pugno di Zeus. È un blocco di rocce al centro del bosco occidentale e, se lo guardi nel modo giusto, somiglia a un grosso pugno che spunta dal terreno. Se invece lo guardi da una qualsiasi altra angolazione, somiglia a un mucchio di enormi cacche di cervo, ma Chirone non ci permetteva di chiamarlo il mucchio di cacca, soprattutto dopo che era stato dedicato a Zeus, che non aveva un gran senso dell'umorismo. Comunque, era un bel posto per piazzare la bandiera. La cima del blocco era a sei metri di altezza da terra ed era molto difficile da scalare, perciò la bandiera era chiaramente visibile, come volevano le regole, e non importava che le guardie dovessero tenersi ad almeno dieci metri di distanza. Lasciai Nico di guardia con Beckendorf e i fratelli Stoll, pensando che così fosse al sicuro. «Manderemo un diversivo sulla sinistra», ordinò Taglia alla squadra. «Silena, lo capeggerai tu». «Ricevuto!» «Prendi Lorele e Jason. Sono bravi corridori. Descrivete un ampio arco attorno alle cacciatrici, attiratene il più possibile. Io guiderò il gruppo d'assalto principale sulla destra e le prenderemo di sorpresa». Annuirono tutti. Sembrava un buon piano e Taglia lo aveva spiegato con una sicurezza tale che dovevi crederci per forza. Taglia mi guardò. «Niente da aggiungere, Percy?» «Ehm, sì. Tenete gli occhi aperti in difesa. Abbiamo quattro guardie e due esploratori. Non è molto per una foresta così grande. Io sarò qui intorno se avete bisogno di me». «E non lasciate le vostre posizioni», disse Talia. «A meno che non capiti un'occasione d'oro», conclusi io. Talia si incubì. «Restate dove siete e basta!» «Giusto, a meno che... Percy!» «Per sì!» Mi prese per un braccio e mi passò la scossa. Cioè, d'inverno può capitare a tutti, ma quando capita a lei, fa male. Forse perché suo padre è il dio dei fulmini. Dicono che Talia possa incenerire le sopracciglia della gente. «Mi dispiace», disse, anche se non sembrava particolarmente dispiaciuta. «Ora, avete capito tutti?» Fecero cenno di sì. Ci separammo, divisi in gruppetti. Il suono del corno diede inizio alla partita. Il gruppo di Silena scomparve nel bosco a sinistra. Quello d'Italia aspettò per qualche secondo, quindi sfrecciò verso destra. Io aspettai che succedesse qualcosa. Mi arrampicai sul pugno di Zeus ed ebbi una buona visuale sulla foresta. Ricordavo la furia con cui le cacciatrici erano sbucate fuori per battersi contro la manticora e mi aspettavo qualcosa del genere, un'unica, grossa carica per sopraffarci. Ma non accadde nulla. Intravidi Silena e i suoi due esploratori. Correvano in una radura, inseguiti da cinque cacciatrici e le stavano facendo addentrare nel bosco, allontanandole da Talia. Il piano sembrava funzionare. Poi scorsi un altro gruppetto di cacciatrici dirette a destra con gli archi tesi. Probabilmente avevano individuato Talia. «Che sta succedendo?» domandò Nico, cercando di arrampicarsi accanto a me. Pensai alla svelta. Talia non ce l'avrebbe mai fatta, ma le cacciatrici erano divise. Considerato quante ce n'erano sui due fianchi, il centro doveva essere scoperto. Se mi muovevo in fretta... Guardai Beckendorf. «Ragazzi, ce la fate a badare alla bottega?» Lui sbuffò. «Certo! Io vado!» I fratelli Stolle e Nico esultarono quando mi slanciai verso il confine. Correvo a tutta velocità e mi sentivo alla grande. Superai con un salto il ruscello e atterrai in territorio nemico. Più avanti, in alto, scorsi la bandiera d'argento delle cacciatrici, protetta da un'unica sentinella che non guardava nemmeno dalla mia parte. Udì dei combattimenti alla sinistra e alla mia destra, da qualche parte nel bosco. Ce l'avevo fatta. La sentinella si voltò all'ultimo minuto. Era Bianca di Angelo. Sgranò gli occhi quando la investì in pieno, gettando la gambe all'aria nella neve. «Scusa!» gridai. Strappai la bandiera di seta d'argento dall'albero e ripartì. Ero a dieci metri di distanza prima che Bianca riuscisse a gridare aiuto. Mi sentivo già la vittoria in pugno, quando... zip! Una cordicella d'argento mi passò velocissima fra le caviglie e si piantò in un albero vicino. Una trappola per farmi inciampare. Ovviamente il cavo era agganciato a una freccia. Prima ancora che riuscissi a pensare di fermarmi, caddi a gambe all'aria in mezzo alla neve. «Persi!» gridò Talia da qualche parte alla mia sinistra. «Che stai combinando?» Prima che mi raggiungesse, una freccia esplose ai suoi piedi e una nuvola di fumo giallo si levò attorno alla sua pattuglia. Tutti cominciarono a tossire, quasi strozzandosi per lo sforzo. Dal bosco mi arrivò il tamfo rivoltante dello zolfo. «Non è giusto!» boccheggiò Talia. «Le frecce puzzolenti sono antisportive!» Mi alzai e ripresi a correre. Ancora qualche metro verso il fiume e la partita sarebbe stata mia. Mi sentivo il sibilo di altre frecce nelle orecchie. Una cacciatrice spuntò all'improvviso e mi attaccò con un coltello, ma parai il colpo e continuai a correre. Udi gridare dalla nostra parte del ruscello. Beckendorf e Nico stavano correndo verso di me. Pensavo che venissero a darmi il benvenuto, ma poi vidi che stavano inseguendo qualcuno. Zoe, che sfrecciava verso di me come un ghepardo, schivandoli senza problemi. E aveva la nostra bandiera in mano. «No!» urlai e ci diedi ancora più dentro. Ero a meno di un metro dall'acqua quando Zoe attraversò il ruscello con un balzo, investendomi quasi in pieno. Le cacciatrici esultarono mentre le due squadre confluivano al corso d'acqua. Chirone sbucò fuori dal bosco, la faccia cupa. Portava in groppa i fratelli Stoll e sembrava che entrambi avessero preso una bella botta in testa. Sull'elmo di Connor Stoll spuntavano due frecce, come delle antenne. «Le cacciatrici hanno vinto!» annunciò Chirone con scarso entusiasmo. Poi borbottò. «Per la cinquantaseiesima volta di fila!» «Per Zeus Jackson!» strillò Talia, venendomi furiosamente incontro. Puzzava di uova marce ed era talmente arrabbiata che sulla sua armatura lampeggiavano delle scintille azzurre. Tutti trasalirono e fecero un passo indietro per via dell'egida. Dovetti fare un grosso sforzo per non ritrarmi anch'io. «In nome degli dèi, a cosa accidenti stavi pensando!» urulò. Serrai i pugni. Ne avevo avute già abbastanza per quel giorno. Ci mancava solo questa. «Ho preso la bandiera, Talia!» gliela sventolai in faccia. «Ho visto un'occasione e l'ho colta!» «Io sono arrivata alla loro base!» urlò lei. «Ma la bandiera era sparita! Se tu non ti fossi mischiato avremmo vinto!» «Avevi troppi avversari addosso!» «Oh, così è colpa mia? Non ho detto questo!» «Talia mi diede una spinta e una potentissima scossa elettrica mi attraversò il corpo, scaraventandomi in acqua con un volo di tre metri!» Alcuni ragazzi del campo rimasero a bocca aperta. Un paio di cacciatrici soffocarono una risatina. «Scusa!» fece Talia, impallidendo. «Non volevo...» La rabbia mi rombava nelle orecchie. Un'onda proruppe dal ruscello e si schiantò sulla faccia di Talia, inzuppandola dalla testa ai piedi. Mi rialzai. «Già!» ringhiai. «Non volevo nemmeno io!» Talia aveva il fiato grosso. «Basta!» ordinò Chirone. Ma Talia sollevò la lancia. «Vuoi una lezione, testa d'alghe?» Non so perché, ma quando era Annabeth a chiamarmi così, andava bene. Almeno mi ci ero abituato. Ma sentirlo dire da Talia non mi piacque per niente. «Accomodati, faccia di pigna!» Sollevai vortice, ma prima che potessi anche solo provare a difendermi, Talia urlò e un fulmine cadde giù dal cielo, si abbatté sulla sua lancia come su un parafulmini e rimbalzò sul mio petto. Crollai a terra. C'era odore di bruciato. Ebbi la sensazione che fossero i miei vestiti. «Talia!» urlò Chirone. «Adesso basta!» Mi rialzai subito e ordinai all'intero ruscello di sollevarsi. Centinaia di litri di acqua si levarono in una spirale, formando una gelida ed enorme cascata a forma di imbuto. «Persi!» supplicò Chirone. «Stavo per scagliarla contro Talia quando scorsi qualcosa nel bosco. In un solo colpo persi la rabbia e la concentrazione. L'acqua tornò nel suo letto. Talia rimase così sorpresa che si voltò per vedere cosa stessi guardando. Qualcuno... qualcosa... si stava avvicinando. Era avvolta in un fitto vapore verde e quando fu più vicina semidei e cacciatrici rimasero con la bocca aperta. «E' impossibile!» esclamò Chirone. «Non lo avevo mai sentito così nervoso. Lui non... lei non ha mai lasciato la soffitta. Mai!» Eppure la mummia in carta pecorita che ospitava l'oracolo continuò ad avanzare finché non si fermò al centro del gruppo. Il vapore che roteava i suoi piedi tingeva la neve di una malsana sfumatura verdognola. Nessuno osò muoversi. Poi la voce dell'oracolo sibilò dentro la mia testa. A quanto pareva potevano udirla tutti perché parecchi dei presenti si tapparono le orecchie con le mani. «Io sono lo spirito di Delphi, portavoce delle profezie di Febo Apollo, uccisore del possente pitone!» L'oracolo mi scrutò con i suoi geli di occhi morti. Poi si voltò indiscutibilmente verso Zoe Nightshade. «Avvicinati, postulante, e chiedi!» Zoe deglutì. «Che cosa debbo fare per aiutare la mia dea?» La bocca dell'oracolo si aprì e il vapore verde si riversò fuori. Vidi la vaga immagine di una montagna e una ragazza in piedi sulla vetta spoglia. Era Artemide, ma era incatenata alla roccia. Era in ginocchio, le mani alzate come per difendersi da un aggressore e sembrava soffrire. L'oracolo parlò. «Cinque andranno a ovest dalla dea in catene. Uno si perderà nella terra dove mai pioggia viene. Il flagello dell'Olimpo la strada saprà mostrare. Il campo e le cacciatrici insieme potranno trionfare. La maledizione del titano uno dovrà patire. E per mano di un genitore, un altro dovrà perire». Poi, davanti ai nostri occhi, il vapore si riavvolse in un turbine, ritraendosi come un grande serpente verde nella bocca della mummia. L'oracolo si sedette su un masso e tornò immobile come era stato nella soffitta, come se potesse restare seduto sulla riva di quel ruscello per un centinaio di anni.